Vicepresidente, sulla questione del prosecco siamo ad una tappa importante. Sì, finalmente stiamo per portare a casa le nuove di OCG e questo ci consente di poter affrontare con forza il mercato internazionale in maniera molto determinante anche perché come Regione Veneto saremo in grado poi di utilizzare anche i fondi per la promozione che vengono dall'OCM Vino per poter promuovere i migliori vini che ci sono in Veneto e in tutto il mondo. Non faremo un investimento a pioggia ma mireremo su mercati precisi e con i vini che sono tipici del nostro territorio ma costruendo solamente una promozione legata alla qualità e quindi tutti i vini che sono DOC, DOCG ma di altissima qualità e del nostro territorio verranno promossi a livello internazionale, quindi punteremo sicuramente sulle eccellenze.